buongiorno a tutti ben tornati sul mio canale in questo video vedremo altre domande di informatica per la preparazione alle prove preselettive con costi della pubblica amministrazione in particolar modo per quello dell'inps 1858 posti indicare quale tra queste tra le seguenti affermazioni su internet e sul suo utilizzo è corretta tra varie opzioni risposta bisogna selezionare i programmi che permettono di accedere ad internet controllano il mode o l'accesso alla rete LAN garantiscono il corretto flusso di dati in ingresso e in uscita e rendono possibile le operazioni che si desidera compiere in rete indicare quale tra le seguenti affermazioni su internet il suo utilizzo è corretta la risposta da dare un sito internet può contenere un numero qualsiasi di pagine indicare tra le seguenti formule quella che contiene un riferimento assoluto la risposta è la formula a1 slash dollaro b slash dollaro 1 indipendentemente dal tipo di browser utilizzato è una buona norma cancellare la cash intanto la risposta è sì libero lo spazio velocizzi il pc e si trovano ospiti indesiderati individuare la risposta errata con le query si possono importare dati da tra le varie opzioni di risposta quella da dare immagini individuare l'indice mail corretto la risposta da dare è esercito punto italiano chiocciolaconcorsi punto it individuare l'indirizzo internet errato la risposta da dare http due punti doppio slash bianchi chiocciolaconcorsi punto it questo è errato perché qua è l'email internet un esempio di risposta è networking internet è la risposta da dare è un insieme di rete interconnesse basate sul protocollo ip o le sue successive estensioni inviando un'email se si vuole inviare una copia a qualcuno senza che il destinatario principale ne venga a conoscenza la risposta è si usa il campo bbc blind carbon coping inviando un'email destinata a un intento in a e inserendo un secondo indizzo nel campo cc la risposta è si invia un'email visibile a entrambi i destinatari inviando un'email e inserendo un secondo indizzo nel campo ccn la risposta è si invia un'email visibile a entrambi i destinatari il cdn è la risposta un servizio di telefonia digitale java è un linguaggio di programmazione l'ipg è uno standard per comprensione di risposte immagini l'e commerce è la risposta è il commercio tramite internet la protezione del documento di microsoft word permette di risposte e limitare l'accesso al documento la sottolineatura in testo del documento word è risposta a una formatazione di carattere la barra delle applicazioni è un'app launcher la barra delle applicazioni solitamente si trova l'esposta in basso o nei lati estremi dello schermo la cache del browser consente di immobilizzare dati scaricati dal web per evitare di doverli scaricare di nuovo in successivi collegamenti la cache del browser di un computer è esposta e consente di immobilizzare dati scaricati dal web per evitare di doverli scaricare di nuovo in successivi collegamenti la cpu è formata da più componenti tra le quali vi sono le risposte unità di controllo e alu per la differenzazione offerta dal sistema operativo windows è esposta è una procedura per riordinare i file dell'hard disk la dimensione di un file indica la risposta è la quantità di dimensioni occupata dal file la fixture to family safety negli ultimi sistemi operativi windows permette di è esposta a monitorare e restringere le attività dei bambini la firma digitale è è esposta a un sistema di utilizzazione di documenti digitali basata sulla sua tecnologia criptografica chiave asimmetriche la firma digitale è un metodo di dedicazione personali di documenti elettronici la funzione sostituisci del programma video scrittura di microsoft word permette di ingrandire il corpo di una parola in un corpo più grande ogni volta che è presente nel testo è esposta e si usando le opzioni formato del comando sostituisci la funzione sostituisci il programma di video scrittura e microsoft word permette di sostituire solo una parte di una parola la risposta è si la funzione stampo unione collega gli elementi presenti in due tipi di file la risposta è Excel e Word la funzione di dispositivo di lettura impronte ai digitali di un pc permette di la risposta è accedere senza digitare la password la funzione principale di una cpu central prostate consente nel risposta è eseguire calcoli la gestione del trasferimento dei file tra computer è un obiettivo del tuo protocollo FTP la gestione dell'hardware del software di un computer è demandata a un particolare programma come ha detto la risposta è sistema operativo la grandezza diagonale di uno schermo si misura in la risposta è pollici la legge sulla privacy tutela la riservatezza dei dati personali la licenza in aggiornamento di Windows 10 ha validità la risposta è perente la memoria centrale di un computer viene controllata e esposta dal sistema operativo la memoria RAM di un computer si caratterizza per essere esposta ai volatili la memoria tampone utilizza per compensare la differenza di velocità di trasmissione tra due componenti del computer in comunicazione tra loro è detta esposta ai buffer la modalità di apprendimento online è detta anche risposta ai learning la netiquette è la risposta a una serie di regole che disciplinano il comportamento in vita la pagina iniziale di un sito in internet è detta risposta a un page la posta elettronica certificata PEC consente di la risposta dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento la posta elettronica certificata PEC la risposta è il sistema che consente di inviare email un valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno la posta elettronica utilizza almeno due porte dello stack del TPC P quali la risposta è 25 e 110 la posta elettronica la risposta è un'applicazione che supporta la comunicazione a sincrona la potenza assorbita in Watt in WC desktop ha meno del monitor la risposta è circa 350 kW la potenza permessa in Italia ad un access point è la risposta è 100 mW Erp la prima operazione che è opportuno fare quando si riceve un email con un allegato è controllare l'allegato con un antivirus aggiornato la principale funzione del WAI Web Accessibility Inactive è la risposta è stabilire gli standard di accessibilità dei siti web delle persone con disabilità la protezione di un documento Microsoft Word la risposta è nel limite all'accesso la protezione inserita in un documento Microsoft Office Word la risposta è può evitare la lettura o la modifica del documento la quantità di istruzioni elementari del processo che vengono elaborati in un secondo all'interno della CPU si misura la risposta è in MIPS la quantità di punti per pollice quadrato in immagine in una stampa si misura in DPI la random access memory ramo vero memoria di accesso casuale è catalizzata dal seguente proprietà la risposta è ogni cella a mediamente lo stesso tempo di accesso delle altre la risoluzione dello schermo del monitor è una misura espressa in PIXEL la risoluzione di un monitor è il numero di risposte ai punti distinti visualizzabili in orizzontale e verticali sullo schermo espressi in PIXEL la risoluzione dello schermo video si misura in PIXEL la ROM è la risposta a un tipo di memoria che consente solamente operazione di lettura dei dati la scheda madre è la risposta al comportamento del computer dove risiede la CPU la sigla CRT cosa vuol dire? la risposta è CANDOGE RAY TUBE la sigla UPS in informatica significa UNITERRUBLE POWER SUPPLY la struttura di una funzione inizia con uguale la tastiera è un risultativo, la risposta INPUT la velocità del clock interno che sicurizza i vari componenti del sistema si misura in Hz la velocità della CPU si misura in Hz l'accessibilità del Windows consiste in programmi e funzionalità in grado di rendere l'utilizzo del computer più semplice e pratico l'acronimo WWW spesso presente negli indizi web significa World Wide Web l'acronimo FAQ significa Frequently Answered Questions l'acronimo FTP significa File Transfer Protocol l'acronimo LAN indica Local Area Network l'acronimo PDF significa Portable Document Format l'acronimo TPCP viene utilizzato per indicare la risposta a un protocollo di rete l'acronimo UR significa Nice Form Uniform Resource Locator l'alto parlante è risposta a un dispositivo che converte un segnale elettronico in vibrazioni e quindi suoni l'amplificatore di potenza risposta è amplifica tensione e intensità di corrente del segnale l'antivirus è risposta a un programma l'architettura del computer è praticamente chiamata di Von Neumann l'attivazione delle macro di un file di Excel può essere dannosa perché potrebbe risposta a veicolare un virus l'attivazione delle macro di Excel 2010 può sostituire un po' simile di risposta di sicurezza perché potrebbe risposta a veicolare un virus l'attivazione delle macro di un file di Microsoft Office può essere dannosa per la sicurezza del computer perché in una macro può risposta essere un virus le dimensioni del monitor si misurano in pollici il video di oggi termina qua per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella Grazie per la visione!